Allora, una prima medaglia l'altro giorno o oggi una medaglia d'oro e un altro discorso? Eh, meno male, sono molto contento. Allora, l'altro giorno bene, adesso abbiamo finito ancora meglio con questa medaglia d'oro e... era aspettata, però sì, finché non si finisce la gara non si sa mai, quindi va bene così, primo posto, molto bene. Ma la tua prima medaglia ti ha dato forza e fiducia o non avevi bisogno di tutto questo? No, no, mi ha dato molta fiducia anche perché una medaglia fa sempre bene al morale e quindi va bene così. E di vincere su questa pista era difficile? Ma la pista non era molto difficile, però comunque anche nel facile bisogna andare forte sempre, quindi nel facile c'è il difficile. Allora, due medaglie a parte, ti ritorni a casa contento? Sì, sì, molto contento.